Undicesima edizione a Taranto per il torneo premio Carlo Di Santo. Dal 12 al 18 giugno presso lo stadio Erasmo Iacovone, l'evento che unisce sport e solidarietà, l'occasione per apprezzare i nuovi giovani talenti locali, supportando la fondazione Ant e ricordando soprattutto una delle figure del giornalismo locale che tanto si è adoperata nello sport e per i giovanissimi in particolare, Carlo Di Santo. È una manifestazione fatta per i ragazzini e non solo. Ci sarà anche un triangolare con la rappresentativa del Comune, la rappresentativa dell'Ant e la rappresentativa di Vecchie Glorie dell'Ugimanduria. In più ci sarà la Juniores rossa contro la Juniores blu che è il premio Carlo Di Santo. Abbiamo scelto due ragazzi per ogni squadra di tutta la provincia di Taranto e avremo questo incontro amichevole naturalmente nell'ambito di questa manifestazione. Invitiamo tutti gli addetti ai lavori, i tecnici soprattutto, perché riteniamo che è una grande opportunità anche per i nostri ragazzi. Le emozioni di Laura Di Santo? Oggi sono molto emozionata perché comunque questo torneo è anche ispirato alla solidarietà, alla partecipazione dell'Ant e quindi ad un contesto che ricorda papà che ritengo sia meraviglioso dopo tanti anni dalla sua morte.